Quanto è importante e cosa rappresenta il prolungamento del contratto fino al 2021? Beh, un motivo di soddisfazione vuol dire che la federazione ha apprezzato il lavoro che è stato fatto in questi due anni. Mi fa molto piacere perché mi dà la possibilità di continuare il lavoro iniziato e di poterlo portare avanti per i prossimi due anni. Come hai ritrovato il gruppo dopo i mondiali in Francia e cosa si porta dietro di quell'esperienza? Beh, il gruppo l'ho ritrovato entusiasta, sempre grande motivazione, è chiaro che è un po' cambiato. Ci sono alcune ragazze che hanno lasciato, alcune che sono infortunate, ma ci portiamo dietro questa grande esperienza, grande emozione, grande crescita e quindi ci portiamo dietro questa idea di calcio a livello mondiale e a cosa dobbiamo tendere se vogliamo migliorare sempre di più. E anche il seguito di tutta un'Italia che finalmente vi ha seguito e continuerà a seguirvi. Sì, le ragazze sono state veramente incredibili perché sono riuscite a fare innamorare un paese intero, a creare veramente tanta attenzione verso di loro e questo è un grande merito. Adesso invece le gare con Israele e Georgia, come prepararle e come le sta preparando? Le prepariamo come sempre, è chiaro che questo è un periodo particolare per il calcio italiano, per le nazionali, perché non ci sono ancora partite giocate, non c'è campionato e quindi in questi primi giorni vediamo quali sono le giocatrici che stanno nelle migliori condizioni, come stanno bene e poi dopo, quando ci avviciniamo alle partite vedremo chi scenderà in campo.